Ciao, benvenuto a questo nuovo video post ancora dedicato al concetto di immortalità ed eternità. In particolar modo in questo post affronterò quello che è ritenuto il concetto fondamentale dell'uomo che è appunto l'eternità. Che cosa significa essere eterni? Già nel post precedente, passando dal concetto di morte, avevo introdotto questa parola, questo termine eternità nel senso di comprensione totale del concetto di morte, dell'integrazione, del cambiamento in se stessi. L'uomo diventa eroe dei due mondi con l'eternità, cioè capace di integrare la sua parte reale, cioè il suo essere profondo con la sua esperienza virtuale, l'esperienza del divenire che gli permette appunto di conoscere se stesso. Quindi il termine, il fatto di terminare, il fatto di avere un inizio ed una fine gli consente di capire che cosa significa essere se stessi. A questo punto perché introdurre questo concetto di eternità? Perché la comprensione di queste due realtà, sebbene una reale e un'altra virtuale, portano a quella che si dice integrazione nella propria coscienza. Quindi al concetto di eternità è collegato il concetto di coscienza. Che cosa intendo io per coscienza? La coscienza è una, diciamo, uno spazio tra virgolette spazio psichico completo e integrato ed è increato, cioè è sempre esistito, anzi è, il suo verbo è, è. La manifestazione della coscienza si ha appunto sia nel mondo reale sia nel mondo virtuale. Quello che è interessante capire è che quando l'uomo che vive nell'esperienza del virtuale si rende conto di avere un essere profondo, cioè una parte di sé molto forte che va al di là degli schemi, va al di là delle regole e che è archetipicamente costruita in modo tale da protendere a questa integrazione, il gioco è fatto. Cioè quando ci si identifica con il proprio essere profondo, che ha un livello coscienziale superiore, diciamo, rispetto alla mente che si trova a vivere nella realtà virtuale, ci si rende conto che questa propensione, questa curiosità da parte profonda, da parte dell'essere profondo, lo porta all'esplorazione del mondo virtuale all'integrazione in se stesso. Quindi eterno è il concetto più alto di uomo. Perché più alto? Perché nel momento in cui nella realtà virtuale ci si rende conto di questa integrazione, si vivono tutte le esperienze appunto con coscienza. Quindi due sono le possibilità che ha l'uomo. O di svegliarsi ad un certo punto e rendersi conto che egli stesso è fondamentalmente eterno perché la sua coscienza è eterna. Cioè si trova a non avere le categorie di spazio, a non avere le categorie di tempo e ad essere increata. E la coscienza è. Quando si attinge a questa fonte di ultra stabilità, questa fonte di conoscenza e di saggezza importante alla base dell'uomo ci si rende conto che fare affidamento su se stessi e ascoltare le proprie pulsioni interiori, ascoltare le proprie emozioni, ascoltare le proprie intuizioni e aprire attraverso la mente il canale fondamentale a questo essere profondo significa riuscire ad integrare due mondi che non sono altro che il riflesso uno dell'altro. La coscienza, diciamo in questo modo, rappresenta, ripeto, uso questo termine perché la coscienza rappresenta la conciliazione di tutto ciò che sembra paradossale, di tutto ciò che sembra opposto. La coscienza è indivisa, la coscienza esprime milioni, miliardi, infinite possibilità di essere e quindi le coniuga nella sua eternità. Il concetto di coscienza è essenziale perché laddove l'uomo si sente integrato con se stesso ha la possibilità di attingere a queste informazioni che erano, sono e saranno sempre le stesse. È come se ci fosse un punto, un eterno presente in cui l'uomo nel momento in cui nella realtà virtuale si fa una domanda e cerca la risposta nella sua coscienza la domanda e la risposta non esistono e nella realtà virtuale, nel divenire che è mutevole ed è un'altra esperienza della coscienza stessa, la mutevolezza, laddove essa è eterna e dimutevole, che permette tramite appunto il raffronto di conoscere l'uomo, di conoscere se stesso. È come in una visione speculare in cui una volta capito quello che è mutevole ed è instabile e che gli permette comunque di sviluppare tutte le sue possibilità per differenza l'uomo può comprendere se stesso ed integrarsi all'interno della sua stessa coscienza. Questo attributo eterno è sempre stato dato alle religioni, alle filosofie, a Dio. Per quanto riguarda questo discorso, questo attributo rientra nella qualità dell'uomo integrato nella sua coscienza. Ossia, l'uomo che in maniera sveglia da protagonista vive la sua vita, integra le sue esperienze all'interno di sé e si rende conto che sono esperienze che sono evolutive per lui stesso. È un pezzo del puzzle che comprende però come nell'ologramma tutte le caratteristiche di tutto il puzzle. A questo punto l'uomo quando riesce ad integrarsi in questo, tra virgolette, dico spazio psichico perché non saprei come esprimermi perché non è uno spazio, è punto. A questo punto l'unica cosa che posso aggiungere alla grandezza di questa esperienza, di questa comprensione totale è che la diversità sta nel fatto che se ci si identifica invece con la propria personalità legata ai condizionamenti, alle mentalità, alla società, all'idea di gruppo, all'idea di branco, all'idea diciamo di moltitudine, non si attua il processo fondamentale di individuazione. Possiamo integrarci nella nostra coscienza e diventare tutt'uno con tutti gli altri nel momento in cui scopriamo noi stessi, quindi il principio di individuazione è fondamentale, dobbiamo prima scoprire noi stessi per sentirci legati attraverso un legame fortissimo che definirei appunto un legame d'amore, ma amore nel senso proprio di legame coscienziale integrato verso tutti gli esseri della nostra dimensione psichica. Beh a questo punto ci vediamo al prossimo posto. Ciao ciao! Ciao!